Una tavola rotonda per mettere in connessione le donne giuriste con le donne medico e per discutere di violenza di genere in ambito sanitario. Un tema mai come ora attuale che nel corso dell'incontro che si è tenuto nell'aula a Sclepios del Policlinico di Bari mette al centro il grande tema delle aggressioni che troppo spesso vedono come vittime le operatrici sanitarie. È stato voluto e organizzato dall'Associazione Donne Giuriste Italia a sezione di Bari. È un incontro molto importante perché ci confrontiamo anche in ricordo della giornata mondiale contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne che la cui data ricade il 25 novembre. Ci siamo riuniti appunto noi donne giuriste con le donne medico per affrontare le problematiche che queste si trovano a dover fronteggiare spesso violenza a livello personale quindi passiva ma anche attiva. L'ADG ha creato una sinergia grazie anche all'ospitalità del Policlinico di Bari con i vari reparti. Abbiamo quindi l'intervento delle dottoresse della centrale operativa del 118, del pronto soccorso, della medicina legale tant'è che anche la società italiana di medicina legale e assicurazioni ci ha dato ovviamente il patrocinio e anche della medicina del lavoro. Per cui le avvocate e l'ordine degli avvocati di Bari ha voluto sposare questa sinergia tra donne nell'intento di sensibilizzare quindi l'opinione pubblica in occasione della giornata ovviamente del 25 novembre, giornata internazionale ricordiamo per eliminazione delle violenze sulle donne con particolare interesse nell'ambito sanitario perché magari alcune volte è sottovalutato ma sono ovviamente le donne in trincea. Il codice rosso che è il codice d'emergenza per i medici sta diventando un codice d'emergenza, anzi è già diventato un codice d'emergenza per la giustizia in quanto è stato introdotto con la legge del 2019 e questa normativa è intervenuta appunto sulla violenza di genere inasprendo le pene soprattutto in materia di stalking e introducendo nuovi reati tra cui un veramente delitto grave che è quello in sintesi dello sfregio permanente al viso. Successivamente abbiamo ora un nuovo decreto proprio di qualche giorno fa che il Senato ha approvato purtroppo successivamente alla tragedia di Giulia Cecchettin. Parlato del pericolo grave che corrono soprattutto le donne medico di essere sottoposte a violenze non soltanto fisiche ma anche verbali, tanto da alterare la risposta terapeutica perché un'aggressione del genere ad una donna medico o a un'infermiera che gestisce il triage telefonico crea una depressione, una scarsa fiducia in sé, altera il momento che invece è importantissimo di raccolta di dati al telefono o diciamo quando si è presenti fisicamente. Noi cerchiamo attraverso un intervento direttamente nelle scuole o nelle associazioni che si occupano di donne con problemi di salute oltre che con problemi psicologici di dare il nostro contributo di far sì che si crei una cultura del rispetto.